Sai come funzionano queste pile? Scopriamolo insieme. La pila è un oggetto che trasforma l'energia chimica in elettrica. E questo avviene grazie a due semplici reazioni chimiche. Da una parte infatti c'è una sostanza che si ossida e che dunque cerca di cedere gli elettroni in eccesso che possiede. Dall'altra parte invece c'è una sostanza che si riduce, cioè che cerca gli elettroni che gli mancano per essere stabile. E in mezzo c'è una barriera che impedisce alle due parti di comunicare. È chiaro dunque che, visto che questa parte vuole cedere gli elettroni e questa invece acquistarli, collegandole gli elettroni inizieranno a scorrere nei fili producendo energia elettrica.